Si tratta di un'invasione pacifica ed è quella degli scacchisti provenienti da tutte e tale che arriveranno da sabato 30 giugno in provincia di Ragusa, un'invasione che proseguirà per tutta la settimana successiva, sino al 7 luglio, 565 per l'esattezza gli iscritti al campionato giovanile italiana Under 16, promosso da Fede Scacchi e in programma a Villaggio Turistico Castalia. 10 le categorie partecipanti, Under 8, 10, 12, 14, 16, nelle due varianti assolute e femminili. Rappresentanza consistente è quella degli scacchisti siciliani che in pratica giocheranno in casa, 92 partecipanti, 20 le regioni rappresentate, 9 i turni che a partire da domenica a primo luglio saranno effettuati con classifica finale che decreterà i campioni italiani di categoria. Sono questi alcuni dei numeri della Kermesse Scacchistica che per la quarta volta si tiene in Sicilia e che per la prima volta è ospitata nell'area Iblea. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa Ragusa, portabandiere siciliano, durante la cerimonia di inaugurazione in programma sabato prossimo Andrea Iannello di Messina, campione italiano 2011. I tifosi solani tra gli altri faranno il tifo anche per le campionesse italiane a Gueci, le sorelle Tea e Laura. Tra i favoriti di questa edizione il lombardo Luca Moroni che nonostante la giovane età ha ottenuto un primo riconoscimento fide alla federazione scacchistica internazionale proponendosi come uno dei giovani più promettenti a livello italiano.